Buongiorno e buon Ferragosto, auguri a tutti voi, vi parlo qui da casa mia, sono rimasto a Marcianise come da antica tradizione, non vado in vacanza, continuo a stare in città, sono stato in giro, saluto coloro i quali sono rimasti qui a Marcianise, saluto affettuosamente coloro i quali sono in vacanza, auguro a tutti una giornata spensierata in serenità. Ci stiamo preparando, ci stiamo preparando a questa nuova straordinaria avventura del 20 e 21 settembre prossimo quando saremo in campo, anzi siamo in campo per l'elezione del nuovo sindaco, sono candidato come ben sapete e dei nuovi consiglieri comunali. Abbiamo una grande squadra, la presenteremo nei prossimi giorni, saremo in contatto, ci terremo in contatto, vi chiedo di stare con noi in questa straordinaria avventura, sarà una bellissima avventura. Per adesso godetevi questa giornata, godetevi il Ferragosto, tanti auguri a tutti ed evviva Marcianise.